Con l'estate arriva puntuale il problema della carenza idrica dovuta un po' alla scarsità di precipitazioni atmosferiche, un po' all'aumento sensibile della popolazione anche non residente e anche all'eccessivo consumo a volte indiscriminato da parte degli utenti. Sono necessari quindi provvedimenti di pubblico interesse nel limitarne il consumo in diversi comuni e vietato utilizzare l'acqua proveniente dagli acquedotti comunali per usi diversi da quello domestico. Iniziano quindi ad arrivare i primi avvisi e le prime ordinanze. Si sono già mossi i comuni di Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana e San Pietro Altanagro, ora anche Sanza. Il vice sindaco Antonio Lettieri nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza che vieta fino al 31 agosto il consumo di acqua potabile per l'irrigazione dei campi, l'innaffiamento di orte e giardini, il lavaggio di autoveicoli, di spazi e aree pubbliche o private, il riempimento di vasche, fontane o piscine. Sono esclusi i normali usi domestici, igienico-sanitari, antincendio e produttivi. Considerata la situazione di emergenza idrica che ormai da qualche settimana sta colpendo il territorio, ha detto, si è ritenuto necessario vietare consumi di acqua differenti da quelli domestici e civili. Il fine è quello di preservare le riserve, contenere gli sprechi, evitare fenomeni di abbassamento della pressione nella rete idrica cittadina e quindi possibili interruzioni di servizio. L'emergenza idrica è davvero molto preoccupante, afferma il vice sindaco. Oltre al rispetto dell'ordinanza, invito i cittadini a utilizzare il buonsenso e a limitare i consumi superflui, introducendo semplici accorgimenti nelle abitudini quotidiane. E anche nel caso dovesse piovere, bisognerà continuare a evitare gli sprechi. Non basterà, ha concluso qualche temporale, per risolvere una situazione drammatica che avrà serie di percussioni economiche e sociali.